ciao a tutti bentornati sul mio canale youtube dental care dopo i video precedenti in cui abbiamo parlato appunto del post operatorio per quanto riguarda i denti del giudizio dei problemi e dei sintomi più comuni che i denti del giudizio danno adesso in questo video vi parlerò di quando i denti del giudizio devono essere estratti quindi quando toglierli in buona sostanza prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al mio canale in modo tale che voi appunto possiate rimanere sempre aggiornati su tutti quelli che sono i contenuti che pubblico parlo di argomenti di odontoiatria e soprattutto anche di medicina a scopo semplicemente divulgativo ed informativo per qualsiasi problema rivolgetevi sempre dal vostro odontoiatra le indicazioni alla rimozione dei denti del giudizio appunto vanno suddivise in due grossi capitoli in buona sostanza cioè quando togliere i denti del giudizio superiori quindi le indicazioni per gli ottavi superiori così si chiamano i denti del giudizio e le indicazioni per i denti del giudizio inferiori cominciamo a vedere quando togliere i denti del giudizio superiori per quanto riguarda appunto l'estrazione dei denti del giudizio superiori questi vanno tolti nel momento in cui determinano quella che viene definita come ipercheratosi frizionale se vuoi sapere appunto che cos'è l'ipercheratosi frizionale va a vedere il mio video precedente sui problemi sui sintomi più comuni dei denti del giudizio dove ho spiegato che cos'è l'ipercheratosi frizionale un altro motivo per cui appunto i denti del giudizio possono essere rimossi sono appunto i motivi ortodontici cioè quei soggetti che hanno appunto un'occlusione molto alta parlo in maniera semplice per rendere il video comprensibile a tutti questa condizione viene chiamata morso aperto quindi per motivi ortodontici per ridurre questa altezza eccessiva dell'occlusione in alcuni casi i denti del giudizio possono essere estratti perché appunto si va ad abbassare in questo modo l'altezza dell'occlusione ovviamente se sono cariati se erano pulpiti o ascessi anche in questi casi ovviamente vanno rimossi così come se danno delle disodontiasi delle pericoronariti cioè difficoltà nell'eruzione o infiammazioni della gengiva vicina al dente del giudizio in questi casi ovviamente devono essere estratti devono essere appunto rimossi soprattutto se questi episodi diciamo tendono a recidivare nel tempo nonostante il paziente abbia fatto ripetute terapie antibiotiche ultima indicazione per i denti del giudizio superiore all'oroestrazione sono appunto i danni al settimo cioè se sono appunto storti si dice appunto mesi o inclinati in alcuni casi possono dare o delle carie oppure possono provocare dei riassorbimenti della radice del secondo molare e quindi in quei casi ovviamente vanno estratti per gli assorbimenti radicolari questo lo si può vedere soltanto ad una radiografia per quanto riguarda i denti del giudizio inferiori valgono più o meno le stesse considerazioni generali viste per quelli superiori vale a dire appunto se provocano carie ascessi pulpiti disodontiasi pericoronariti e danni al settimo in tutti questi casi vanno appunto estratti ma appunto possono essere estratti anche per fenomeni di disturbi nervosi si chiama appunto neuroprassia anche qui per non rendere il video troppo lungo ti invito a vedere il video precedente sul mio canale che ho fatto c'è anche la playlist sui denti del giudizio che puoi cercare in cui ho parlato di cosa è la neuroprassia praticamente poi ci sono diciamo degli altri motivi che possono essere presenti questi valgono sia per i denti del giudizio superiori sia per i denti del giudizio inferiori in cui può essere indicato e andarli ad estrarre vale a dire se per esempio al dente del giudizio sono associate delle lesioni ovviamente premetto che queste lesioni sono visibili ovviamente soltanto facendo un esame radiografico le lesioni associate possono essere appunto delle cisti o anche dei tumori che devono appunto essere analizzati dal punto di vista istologico in caso di fratture osse specifiche anche i denti del giudizio devono essere estratti oppure nel momento in cui il paziente deve sottoporsi alla cosiddetta chirurgia ortognatica che appunto è un trattamento combinato tra il chirurgo maxillo facciale e l'ortodontista nel risolvere in età adulta con l'approccio chirurgico alcuni tipi di malocclusioni non più risolvibili appunto con il semplice trattamento ortodontico in questi casi i denti del giudizio devono essere estratti sei mesi prima dell'intervento di chirurgia ortognatica perché il taglio osteotomico cioè il taglio che va a fare il chirurgo non prevede la presenza degli ottavi perché appunto le ossa la mascella e la mandibola vengono tagliate in punti specifici e spostate per andare a correggere appunto la malocclusione però non scendono i dettagli della chirurgia ortognatica in questo video perché non è oggetto di questo video ma se siete interessati scrivetemi qui sotto nei commenti che appunto vi posso fare un video a parte sulla chirurgia ortognatica sempre un video informativo e divulgativo con questo video per oggi ho terminato ti invito a lasciare un mi piace se ti è piaciuto vallo a condividere anche con altri utenti in modo tale da far crescere sempre di più questa community e ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto del video e ci vediamo al prossimo video ciao